La serie C1 di Cerdisa rappresenta perfettamente l'anima tecnica di questo brand. Prende il nome dalla zona di Londra con un'altissima densità di studi di architettura e interior design. Infatti con questa gamma noi vogliamo dare delle soluzioni ai nostri partners, ai nostri architetti e designers. Più che una gamma è un pacchetto completo. Infatti è disponibile in otto colori, ogni colore in quattro superfici. Abbiamo il naturale R10 per gli interni, lo strutturato R12, il semi polish lappato e il levigato. Disponibile in quattro formati nello spessore standard, quindi 10,5 mm, 60x120, 60x60, 60x30 e 60x10. Due anni fa abbiamo introdotto anche le grandi lastre, disponibili in 1x3 metri, 1x1 metri e 50x1 metri. Tutte in spessore 6 mm. Come dicevo all'inizio è una gamma tecnica, quindi una gamma full body, tutta massa, che la rende suitable per zone di alto calpestio come aeroporti o centri commerciali, zone di interni, esterni, piscina, ma con le grandi lastre anche come decorazioni, per esempio di lobby o addirittura external facility. Grazie. Grazie. Grazie.